Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale YouTube la domenica e il martedì non vi faccio i video e più perché sono fanale oggi aprirò tre bustine dell'edicola iniziamo da questa ma per chi non lo sapesse Kevin ha un canale YouTube e seguite anche lui ha fatto dei bel video e iscrivetevi allora questo che si chiama me save the love si trova in tutto quello che ho con l'accessorio busta nella busta per chi non lo sapesse no ve li fanno qui no guardate che carino guarda che carino è mio zio che è passato ecco qua con il pettinino che è questo dovevo guardare il magazine con un bel elaborato poi questo dei dinosauri che ci sta dentro un dinosauro gommoso e cinque figurine le cinque figurine e il dinosaurino che ovviamente non se lo vogliono aprire in nessun modo e quindi lo mettono nella doppia carta nella tripla c'è un'altra carta che ti pareva altra carta ecco qua il dinosaurino per fare amicizia guardate che carino e poi apriamo questa qua che si chiamano buble piclos ma prima apriamo le figurine vedete ne stanno cinque ma io non c'ho l'album c'è questa c'è questa c'è questa c'è questa più veloce e poi ah c'è l'apertura facilizzata ecco questo avevo poi i miei che entrano nella buca o o o o o o o o vabbè ve l'ho fatto vedete però eh sono tutti collezionabili noi abbiamo questo qua verde ecco che si chiama boing boing perché mi sa che lì c'è rimbalza ed eccolo qua e si può fare anche questo si lascia da solo e così da solo una pallina quanto è stress e ci puoi trovare qualcosa dentro spero che dentro non ci siano ragni che cosa è? è un ragnetto è un ragnetto che carino spero che non ci erano le vespe se no già mettere una vespa dentro casa oggi ecco qua ecco qua boing boing questo è il medicine la localizzazione non ce la dava e questo vediamo poi poi oggi non so saluti la pallina e ciao spero che il video vi sia piaciuto lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale e mettete un bel mi piace e niente ciao